Grazie ai fondi europei abbiamo valorizzato il patrimonio artistico, dato slancio alle infrastrutture, sostenuto il sistema produttivo, riqualificato il territorio. Ma non è tutto, abbiamo anche tutelato l'ambiente e investito nel nostro futuro. Un futuro in cui le marche e l'Europa brilleranno ancora insieme. La luce dell'Europa illumina le marche. Grazie a tutti.